Musica Abbiamo rinnovato quasi tutto il sistema però quello che è affascinante su questo sistema è che queste idee che sono andate ad includersi in questo sistema cento anni fa, ancora oggi sono più attuali che mai per esempio la rigenerazione dell'energia nelle batterie è qualcosa di unico al mondo questo sistema funziona 4.500 ore all'anno e questi interventi che abbiamo di modernizzazione hanno durato circa 11 mesi e hanno impiegato quasi 100 tecnici e ingegneri e ancora una volta posso soltanto ripetere che è qualcosa di unico al mondo questo sistema è anche per noi un grande motivo di orgoglio e vanto aver potuto collaborare nella modernizzazione di questo impianto E' stata riaperta oggi la funicolare centrale di Napoli chiusa dal 1 agosto 2016 per consentire gli interventi della revisione ventennale lo storico impianto riprende la sua funzione essenziale di collegamento fra il centro e la zona collinare compito cui assolve dal 28 ottobre 1928 in 11 mesi si sono effettuati oltre 1000 interventi di riammodernamento fra norme di sicurezza e necessità specifiche per gli impianti a fune e per il restyling di uno degli impianti più importanti al mondo nel suo genere per lunghezza, efficienza e capacità di trasporto Nuovi display, wifi, ovviamente abbiamo rinnovato pavimenti l'interno delle cabine, il sistema degli argani, motori un po' più di 7 metri al secondo per cui un po' più veloce maggiore sicurezza in generale non cambierà tanto perché sarà efficiente come prima un po' più veloce però sempre efficiente come è sempre stato negli ultimi 100 anni C'è grande soddisfazione perché dietro a questo c'è fatica ci sono risorse economiche c'è il lavoro quindi voglio ringraziare io ANM, i dipendenti, i lavoratori l'azienda, l'impresa ovviamente il comune di Napoli che ha fatto un gran lavoro come avete potuto notare non è solo messa in sicurezza è completamente rifatto tutto quindi siamo molto soddisfatti perché si avvertiva l'assenza della funicolare in un momento anche di difficoltà importante del trasporto pubblico in città la funicolare aiuta la metropolitana aiuta la mobilità ed è un messaggio di concretezza per il superamento della crisi quindi siamo molto contenti soprattutto per i cittadini di Napoli e per i turisti della nostra città dopo agosto ci sarà Mergellina ci sarà Chiaia ci sarà Montesanto ci sarà la funicolare centrale ci auguriamo soprattutto ci sarà una ANM più forte sul ferro stiamo andando bene in prospettiva gomma ci aspettiamo un autunno importante ma ripeto il messaggio forte deve essere salvataggio dell'azienda rassicurare i lavoratori, i cittadini e innalzare la qualità dei servizi ogni giorno c'è una riunione al comune su ANM quindi per noi è priorità assoluta in questo momento il trasporto pubblico in città noi bus abbiamo fatto il bando come sapete quindi anche lì si va in prospettive importanti io credo che la sofferenza del trasporto pubblico con il miglioramento però della funicolare noi lo avremo fino a Natale ritengo che da gennaio sia come azienda sia come miglioramento si cominceranno ad avere segnali importanti 2018-2019 si vedrà che cosa significa investire concretamente nel trasporto pubblico della nostra area metropolitana grazie grazie